salve amici ben ritrovati nel nostro canale oggi prepareremo insieme la salsa agrodolce quella salsa che trovate in tutti i ristoranti cinesi vediamo quali ingredienti ci occorrono abbiamo bisogno di quattro cucchiai di passata di pomodoro una tazzina di zucchero una tazzina di acqua mezza tazzina di aceto bianco e un cucchiaio di amido di mais per prima cosa sciogliamo il cucchiaio di amido di mais nella tazzina dell'acqua adesso versiamo tutti gli ingredienti in un pentolino e facciamo cuocere per 8 10 minuti il tempo che si addensa trascorsi 10 minuti ci ritroveremo con questa consistenza adesso la mettiamo in un ciotolino adesso la facciamo raffreddare ed è pronta ecco a voi signori la nostra salsa agrodolce che la potete utilizzare con gli involtini primavera oppure con le nuvolette di drago mi raccomando se la ricetta vi è piaciuta iscrivetevi al canale e la ricetta degli involtini la ritroverete nei nostri video ciao